è il vintottesimo minuto di Inter Empoli zero a uno dalle telecamere non si vede bene ma la squadra di Andrea Zoli fa partire un lancio lungo su cui si avventa inserendosi Cristian Aslani approfittando anche di un errore di lettura di De Frai Aslani controlla benissimo con il sinistro e poi con il destro in Filandanovic e due a zero in Empoli la la paura eh sale ma poi per fortuna l'Inter riesce a rimontare e la partita finirà quattro a due ma adesso segno del destino l'uomo del destino è Cristian Aslani perché proprio quell'uomo che ha segnato il suo primo gol in Serie A contro l'Inter è finito nel mirino della società nerazzurra amiche amici interisti amiche amici di Passione Inter benvenuti in questo nuovo episodio dove cercheremo di parlare del nuovo vice Brozovic individuato eh dall'Inter nel club di Passione Inter abbiamo sottolineato più volte quanto l'Inter abbia bisogno di eh un sostituto eh di Brozovic e adesso secondo la gazzetta dello sport eh la società nerazzurra sembra aversi sembra ecco eh che si sia fatta un'idea chiara sul profilo che si vuole in quella zona di campo deve essere un giovane che garantisca eh dieci dodici partiti da titolare di livello e che ovviamente sia un giovane di talento che quindi negli anni possa crescere ancora di più eh diciamo all'ombra di eh Marcello Brozovic c'è un nome ed è proprio quello di Cristiano Aslani ma visto che comunque eh stiamo parlando di un giocatore che fino all'anno scorso giocava principalmente nella primavera dell'Empoli noi di Passione Inter abbiamo deciso che comunque sarebbe molto carino e ehm utile per voi sapere qualcosa di più su questo eh giocatore eh per fare questo approfondimento eh iniziamo come nostro solito da un identikit quindi dandovi magari delle informazioni base un po' di informazioni sulla sua eh carriera breve carriera perché comunque è un classe eh duemila e eh due ehm detto questo quattro cinque informazioni eh importanti gioca nell'Empoli ma questo lo sappiamo è un classe duemila e due ehm è albanese della nazionalità eh dell'Albania sa giocare principalmente tre ruoli a centrocampo che sono quelli eh del playmaker della mezzala e del trequartista e il suo attuale valore di mercato di tre virgola cinque milioni di euro comunque una cifra plausibile per chi ha iniziato a giocare con i grandi eh da praticamente due eh stagioni una stagione e mezzo per parlare un po' della sua carriera ma anche della vita di Asrali diciamo che lui è nato eh in Albania ma le già all'età di due anni si è trasferito in Italia eh stabilendosi a Buti in provincia di Pisa quindi in Toscana e come solito fare l'Empoli dando un occhio ai vari talenti in tutta la Toscana hanno notato Aslani a circa l'età di nove e dieci anni e l'hanno prelevato eh inserendolo quindi nelle proprie eh giovanili da quel momento in poi gioca ancora eh all'Empoli Aslani quindi sono praticamente dieci e undici anni che Aslani veste la maglia dell'Empoli ha mh ha continuato il suo percorso di crescita nelle giovanili della società toscana attraversando tutte le varie trafile spiccando sempre come un eh talento purissimo fino ad esordire eh praticamente un anno e mezzo fa il lo scorso gennaio duemila e ventuno contro il Napoli in eh Coppa Italia da quel momento in poi Aslani raccimola qualche eh presenza con i grandi quella mentre ovviamente continua eh a essere uno dei pilasti della primavera dell'Empoli di Buscella l'anno scorso ha vinto anche il campionato primavera quest'anno ha giocato la Youth League diciamo la Champions League eh dei giovani delle delle primavere ehm e ha quindi quindi è fatto su e giù fino al momento in cui l'Empoli ha deciso di vendere Samuele Ricci a Torino un giocatore un centrocampista che giocava proprio come playmaker davanti alla difesa da quel momento Andrazzoli su staff sono convinti non c'è bisogno di operare sul mercato il sostituto di Ricci è già in casa e si chiama Cristian Aslani da febbraio in poi quindi eh l'albanese eh gioca praticamente tutte le partite da titolare tranne una un fiorentina Empoli dello scorso aprile se non sbaglio ehm e in questi mesi Aslani ha convinto tutti da subito ma comunque dei dubbi come vi dicevo prima amici amici ce ne erano comunque pochi perché eh è un giocatore che è sempre spiccato sia nelle giovanili che nella primavera e anche in quelle eh pochissime presenze che aveva fatto prima di febbraio nella prima squadra facendo diciamo finendo questo escursus eh vorrei parlarvi un po' delle sue caratteristiche perché perché è bello sapere che è un giovane che ha giocato eh nella primavera dell'Empoli che ha praticamente cucito addosso eh la maglia dell'Empoli ma adesso vorremmo sapere un po' di ciccio cioè questo giocatore saprebbe giocare all'Inter e per iniziare questo discorso eh partirei dalle eh parole che lo stesso Aslani ha detto nel nel post partita eh di Inter Empoli che come detto in apertura è anche la partita in cui ha segnato il suo primo gol in sé a quindi per questo nella copertina abbiamo deciso di mettere l'uomo del destino Aslani comunque ha detto sono un play davanti alla difesa ma posso fare diversi ruoli dal trequartista alla mezzala eh come detto in apertura è un giocatore molto versatile e magari vi mostro anche la hit map di eh Aslani per farvi capire quanto sia un giocatore che si sappia adattare a eh alle direttive di Andrea Zoli eh del suo attuale tecnico quindi perché proprio contro i nerazzurri lui se vi ricordate bene anche da e anche da da quel fattore che nasce il secondo gol dell'Empoli Aslani ha giocato primo come trequartista una volta che è uscito Stulaz se non sbaglio verso il sessantesimo eh Andrezione è deciso di eh indireggiare Aslani da playmaker e questa è l'hit map eh dell'albanese in questa stagione ha un rosso intenso nella zona davanti alla difesa quindi effettivamente è un ruolo che eh ricopre per lentamente quello del playmaker davanti alla difesa ma è un destro che sa giocare anche come mezzala ma che sa giocare anche come ehm trequartista è un giocatore veramente che si sa adattare da questo punto di vista è molto intelligente ehm infatti grazie alla sua intelligenza tattica e alle grandi capacità tecniche individuali di cui è dotato risulta sempre semplice sia per lui che per il proprio tecnico spostare eh la sua posizione in campo e svolgere compiti molto diversi tra di loro perché un playmaker indipreso ovviamente fa delle cose molto diverse da un trequartista un trequartista si inserisce deve essere veloce a verticalizzare un playmaker magari anche se parla della porta deve ormai siamo abituati a vederli dialogare con il portiere con la difesa Aslani sa fare tutte e due le cose molto bene Andrezione ha anche detto che lui praticamente non sbaglia mai una partita ma io ci terrei a sottolineare il punto di forza più grande secondo me di Aslani che è quello della tecnica individuale è perfetto nei passaggi di prima nei controlli precisi come abbiamo purtroppo visto nel nel gol che ha realizzato contro l'Inter e nella visione di gioco sa inserirsi bene in mezzo le linee riesce a posizionarsi sempre nella posizione migliore in base alla situazione di gioco in tutto questo avendolo anch'io seguito ehm un pochetto un pochetto in in primavera eh posso garantirvi che Aslani è un grandissimo specialista dei calci piazzati così come dei calci di rigore eh vorrei ricordare una doppietta che lui ha realizzato ehm in questa stagione in youth league contro la stella rossa è una doppietta dal dischetto il feeling con il gol non gli manca tanto che l'anno scorso in primavera ha segnato nove gol eh questo anche perché tira prevalentemente calci d'angolo calci di punizione calci di rigore ma è un giocatore che è dotato anche di un grande tiro dalla distanza eh addirittura Aslani ha così tante qualità eh che lele Adani lo ha definito come il miglior giocatore giovane in questo campionato è un vero affare però comunque stiamo parlando di un giovane quindi i difetti li avranno non ha tutti eh tutti i pregi avrà delle cose di ehm che eh deve migliorare e secondo me ehm la prima statistica il primo dato fondamentale in cui Aslani dovrà migliorare è quello nei tocchi del pallone perché lui è sicuramente bravo a gestire il pallone ma se vogliamo per esempio compararlo a Marcello Brozovic ho visto che abbiamo detto che eh Aslani verrebbe all'Inter da vice Brozovic ecco che vediamo come Aslani tocca in media quest'anno sessanta palloni a partita Brozovic invece novanta c'è un grande scarto di trenta questo sarà probabilmente dovuto anche dal modo in cui gioca l'Empoli che magari è un po' più immediato un po' più in contropiede eh meno tocchi del pallone anche l'Empoli contro le big magari non è abituato a eh gestire il pallone come l'Inter fa praticamente in tutte le partite ma eh in un ipotetico arrivo all'Inter secondo me Aslani dovrà aumentare il tocco dei palloni o comunque abituarsi a essere il centro nevralgico della squadra come eh Marcello Brozovic e noi tifosi interisti lo sappiamo benissimo eh l'altro punto focale del gioco di Brozovic è quantità qualità scusatemi è quantità quindi il dispendio fisico e la corsa Brozovic è da anni praticamente giocatore che corre di più in campionato ma da questo punto di vista come è messo Aslani? Per niente male direi perché comunque eh il duemiladue e quattordicesimo in classifica in Serie A per chilometri percorsi in media e per ecco per essere un giocatore non di fascia è un buonissimo dato i presupposti eh quindi amici amici perché possa adattarsi abbastanza velocemente all'Inter secondo me ci sono le basi di un possibile affare anche ci sono perché si e dei quotidiano hanno scritto comunque che per una cifra vicino ai dieci milioni dodici milioni di euro per un giocatore delle sue potenzialità si potrebbe prendere secondo me è un affare un po' come ha detto a Dani eh con io concluderei poi magari voglio sapere la vostra nei commenti eh su Aslani se magari vi è capitato di vederlo in primavera se era un profilo che avevate adocchiato da un po' di tempo se eh siete arrivati fino a questo punto fatemelo sapere magari con la bandiera dell'Albania per celebrare la nazionalità eh di Aslani detto questo io vorrei concludere con una frase dell'attuale tecnico di Aslani cioè Andrea Zoli che è un maestro e un tecnico navigato e esperto maestro insomma che ha detto su Aslani se continua così la strada è tracciata e per questo abbiamo detto l'uomo del destino il predestinato eh io ho concluso un po' eh vi ho fatto conoscere spero eh di avervi fatto conoscere un po' di più di Aslani di essere stati contenti di questo approfondimento io vi ricordo ovviamente eh dell'appuntamento giornaliero a delle sette e mezza qui sul nostro canale YouTube e sul nostro canale Twitch eh vi ricordo ovviamente di iscrivervi perché se non volete perdere questi contenuti ragazzi se arriva Aslani non sapete nulla fate una brutta figura quindi magari noi di Passione Inter vi possiamo dare una mano comunque a parte gli scherzi eh ringraziamo sempre del sostegno delle donazioni degli abbonamenti eh tra l'altro ricordo che su www.passioneinter.club sono anche in sconto gli abbonamenti per entrare a far parte della nostra grandissima community riservata e avere l'occasione di entrare in diretta qui con noi anche prima della partita o nelle dirette giornali che facciamo per scambiarci due chiacchiere insieme detto questo vi ringrazio di avermi seguito fin qui una buona giornata e sempre Forza Inter Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.